vediamo come fare i pomodori fatti in casa questi sono i nostri pomodori raccolti nell'orto vogliamo fare qualche barattolo di pelati di passata abbiamo preparato tutta l'attrezzatura la macchinetta per macinare l'acqua calda per pelare e per far bollire poi i barattoli allora vediamo come procedere innanzitutto sciocchiamo i pomodori sotto l'acqua corrente poi li tagliamo a metà questi serviranno per fare la passata come vedete mio marito li sta anche strizzando per far uscire l'acqua in eccesso li lasciamo proprio due minuti così a scolare a riposare un attimo e poi inizia a macinare in alto abbiamo l'orticello dove abbiamo raccolto i nostri pomodori e il nostro basilico da mettere nei barattoli i barattoli naturalmente devono essere pulitissimi sciacquati ci mettiamo dentro due fogliette di basilico ma non è necessario se non ce l'avete perché ne abbiamo tanto nell'orto il segreto per avere un pomodoro buono e che non sappia che non sappia di acido e che mantenga tutta la sua fragranza è non far passare 18 minuti da quando viene lavorato alla bollitura quindi ecco perché mio marito ha già preparato l'acqua questa è quella per i pelati l'acqua per far bollire i barattoli adesso intanto che lui mi macina un po di passata vediamo come fare i pelati come sbucciarli questi che vanno in macchinetta non serve perché lo fa direttamente la macchinetta qui siamo attrezzati sulla nostra veranda non dentro casa vedete abbiamo tutta l'attrezzatura ecco qua questa è la mia acqua che bolle ci metto con il cestello un po di pomodori li trattengo un minuto due minuti ok e adesso li sbuccio li sbuccio per fare proprio i pelati ecco perché si chiamano pelati inizio della punta vedete appena che sollevo un pochettino la punta e la buccia va via subito proprio l'acqua perché sono bollenti eccoli qua nel barattolo c'è un pochino di passata proprio due tre dita di passata vedete si sbucciano facilmente ok e li metto dentro bene continuo questa chicca dei 18 minuti a mio marito per lavoro frequentava anche la cirio tra le altre aziende è stata data appunto da amici della cirio quindi non far passare 18 minuti dall'inizio della lavorazione ecco quel barattolo è quasi pieno finisco di riempirlo si pelano facilmente vedete basta sbollentarli un po e si puliscono facilmente ecco qua abbiamo riempito ora va chiuso va stretto molto bene mio marito stringe bene il tappo così e lo immerge già nel recipiente dove abbiamo messo l'acqua che ancora non bolle però arriverà poi a bollitura quindi già la temperatura sarà già 60 gradi ho questa bottiglia in piedi poi la mettiamo giù naturalmente ok quindi da poi vanno una volta finiti messi tutti i barattoli vanno fatti bollire per almeno un'ora mio marito continua anche per fino a un'ora e mezza però un'ora è sufficiente vedete che bella polpa che sta uscendo molto bene e adesso tra i pelati riempiamo i barattoli soltanto di passata perché c'è anche a chi non piace il pelato per fare il sugo in questo modo invece avrete un pomodoro buonissimo nel pieno del suo sapore e potrete fare dei sughi favolosi ve lo consiglio provate anche in piccole in piccole dosi potete farli farli anche a casa spero che questo video vi sia utile per qualsiasi cosa potete commentare e chiedere naturalmente bene amici vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao